ciao e benvenuto in questo nuovo video ASMR io sono Valeria e in questo video andremo a usare gli spillini per il tuo relax e si andremo ad inserire tutti gli spillini all'interno della cover 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 del microfono spero che questo video ti rilassi e ti faccia addormentare www.mesmerism.info ok quanti spillini, quanti sono tutti i pensieri che ci sono nella tua mente un po' 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 un Grazie a tutti. 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 Sono davvero moltissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a rimuoverli con delicatezza tutti 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 quanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti tutti. tutti tutti. Grazie a 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 tutti.